Ieri sera il Palazzo del Consiglio regionale della Sardegna in via Roma a Cagliari è stato illuminato con le luci arancione in occasione della terza giornata nazionale per la sicurezza delle cure della persona assistita. Anche l'Assemblea legislativa ha così aderito all'iniziativa della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative e delle regioni e delle province autonome. La giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l'obiettivo di esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure, organizzando eventi e iniziative a livello nazionale. Il tema è individuato quest'anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'assistenza materna e neonatale sicura.